Siamo questi, siamo quelli che attraverso un intervento artistico rendono più bello un muro un po' sgarruppato probabilmente e non propriamente bello da vedere, siamo quelli che quando c'è da fare uno slancio di generosità perché qualcuno di noi è in difficoltà, anziché uno ne facciamo dieci, a un certo punto devo dire quella notte basta perché sennò creiamo più casino se c'è troppa gente in giro che cerca di dare una mano, ma questo ti dà il senso e l'idea che oggi viene rappresentato in un muro, questo è un simbolo perché non è semplicemente aver dipinto dal punto di vista artistico un muro questo è il simbolo e il significato di quello che siamo noi, di persone che non aspettano che arrivi sempre dal cielo qualcosa io non aspetto che arrivi dal governo quello che magari non è ancora arrivato o che arriverà, ci rimbocchiamo le maniche e ce lo facciamo noi grazie